Nel 2007 il settore ICT causava circa l'1% delle emissioni di gas serra globali, percentuale che si stima al 14% nel 2040. Gli smartphone producono un'enorme quantità di rifiuti elettronici altamente inquinanti, difficili da smaltire e costosi da riciclare. I modelli di smartphone più recenti sono più inquinanti dei precedenti e solo l'1% di quelli usati entra effettivamente in un circolo virtuoso. Se gli smartphone durassero anche soltanto 365 giorni in più, il risparmio equivarrebbe ad eliminare l'inquinamento di tutte le auto di un paese come la Danimarca. Per questo ho immaginato un mondo senza sprechi, un mondo dove la parola rifiuto significa opportunità. Ciao, mi chiamo Boris e questa è Recall First Hand. Recall non si limita a rigenerare smartphone dal punto di vista funzionale. Diamo loro nuova vita e personalità, grazie alle nostre tecnologie certificate e alle mille personalizzazioni e servizi. Ogni smartphone Recall viene sanificato, rigenerato grazie a tecnologie proprietarie, certificato come nuovo e garantito per ben due anni. Ma non solo. Recall offre una gamma di dispositivi personalizzati in moltissime varianti, sostenibile e accessibile a tutte le fasce di popolazione, certificati e garantiti per due anni, assicurando al contempo il minore impatto ambientale possibile. Recall First Hand innova il mercato degli smartphone offrendo un'inedita customer experience, capace di generare valore aggiunto per i clienti e per la filiera. Grazie alla rete di punti vendita innovativi, alla scalabilità e all'omni channel fisico e digitale, Recall First Hand non ha confini geografici. Siamo in grado di spedire i nostri prodotti in tutta Europa H24. Nel solo primo anno sono stati serviti 7 paesi e più di 2.000 clienti, con una customer satisfaction 96.6%. E il meglio deve ancora venire.